Allora, premio speciale ad Alessio Vannini, il mosso della camera Vertigo di Zioni. Motivazione frutto di innata fantasia, conguata con il virtuale, autentiche reazioni vitali scadite da un sottofondo musicale, pop e tecnico. Ecco, pensato che è un ragazzo di 13 anni che si esprime, è veramente doveroso fare tutti i complimenti del punto. L'unica cosa è che speriamo il prossimo, ok? Ringrazio tutti i presenti, ringrazio la Giulia per questo premio e grazie a tutti per averviato questa possibilità.